Ok, sì, per la quale tratta è un'empleato di una compagnia ANSA che, lamentablemente, ha raggiunto il saluto e, lamentablemente, la caggia di un weekend che ha passato. E quindi, mi ring, a gubissare che questa inserita è un'empleato, or, altra, maltrattato, la compagnia ANSA che va esibendosi un'empleato di un'empleato di un'empleato di un'empleato di una compagnia di un'empleato di un'empleato di un'empleato di un'empleato di un'empleato. quindi abbiamo visto che il lavoro di ansa sta esperienziando il ultimo tempo qui uno con l'altro e è qualcosa che non ha disembocato la salute di gente qui va a affettare barbaramente e è stricte proibito di esercizare il lavoro di torrent forale se si fanno un quebrante di salute forale nella parte psicologica per sobrare un gine non per concentrare debidamente perché sta lavorando con stress, con pressione automaticamente comete errori e errori che può resultare fatale non per le persone solo, per la compagnia e per il popolo di Aruba e mi chiede come tal, ora non c'è anche un malo, non c'è un doctor e c'è anche una compagnia a apuntare al doctor non mi seguo mi è equivocato di caso che è un maturato non c'è anche un doctor e il doctor non guarda a constatare ma è un'unico comunicazione con cui si non ha un radar che mi ha detto che la gente non ha avuto la parola, non ha avuto la parola di Divo per evitare un accidente che può resultare catastrofico per le industrie di turismo. E sta qui, per lo che è proprio tra la donna 13, nel oito del ministro, per fare con la gerencia.